Spingi, 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 l'hanno tirata giù tutta, tutto il montante e fuori la ferranda l'hanno sbarbata tutta dal fondo, l'hanno portata via fino a passaggi da sotto. Hanno buttato giù la porta nella tentativo di svaliggiare il locale ma mettere in fuga la banda di ladri e la barista che ancora si trovava all'interno. E' successo a Madonna di Mezzastrada alle porte di Arezzo lungo la Umbro casentinese, erano quasi le 5 dello scorso 25 ottobre quando i banditi a volto coperto sono entrati in azione. Io ero qui dietro al bancone quando ho sentito la porta cadere, mi sono girato verso lo schermo delle telecamere però non c'era più nessuno. E' bastato il rumore di me che mi giravo, che non so che mi è caduto, né che ho fatto grandi cose, né che gli ho fatto l'applauso. Comunque gli è bastato il rumore per andare via, io quello che ho visto l'ho rivisto nelle immagini. Il bar era già stato visitato due volte dai ladri, così il titolare aveva deciso di dormire all'interno del suo locale. Loro sono talmente veloci che in quattro minuti ti rovinano la vita, non ti rialzi perché se ti dico che il mio stipendio io lo uso per pagare le forniture, se a me mi porti via 5.000 euro di roba siamo pari, io so parlo con tutti perché io chiudo e me ne vado, non è possibile. Il colpo è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, le immagini inoltre mostrano anche un furgone sfrecciare a tutta velocità, con ogni probabilità a bordo c'erano i due fuggiaschi. Non capisco perché quella notte è stata buttata giù una porta in questo locale, quando non c'è una slot, quando c'è poche sigarette, quando i soldi non ci rimangono, c'è qualche bottiglia, ma per qualche bottiglia va nel supermercato. Il titolare adesso ha presentato denuncia ai carabinieri, ai quali ha consegnato anche le immagini del sistema di videosorveglianza.